Prima che potesse iniziare questo video vorrevo dirvi che la nostra video contiene delle cose incredibili perché con me, sapete, comporremo un... Grazie per la visione! 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 Grazie! Grazie per la visione! 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 ragazzi adesso io vorrei da costruire una casa che ti vede non so che vi sobra un po' stupido e poi una porta ma fa che è successo e' scuare ah la ultima cosa ah si ah si ah 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 quelli lì che mai si sposta il cartellino no ah ecco lì questo non puoi stare a vedere e manco voglio far vedere una barra scusi se posso procedere o no? no un attimo raccolgo tutte le barbabietole oh oh no un attimo ne aspetti perchè devo ah in fatti sto aspettando io oh oh aspettate un attimo che andiamo a andiamo a casa dove è la porta? è un pochino distante perchè sono furbo in posti impensabili metto la porta ah benvenuto no qual è il camparello? ok hai quasi innescato il sistema di sicurezza ecco quella lì sarà della porta questo lì è progettata perciò però c'è che si prendi il volo perchè l'arrivo non è lasciata dentro dove? voglio vedere no 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 non è lì non è lì vai più in là più in là più in là l'amore arriva una cacca un attimo eh il citofono tindon tindon e il cacchio eh posso adesso cambia girare? no un attimo eh devo registrare un tutorial sa com'è eh aspetta ma i carni che roba è succe? questo è successo che faceva i capricci non voleva spostarsi ah è vero siamo credendo ragazzi eh scusate ma un attimo solo allora riempiamo qualcosa e dai oh poteria ripirare poter che cacchio fa? torta male detto microfono ma porco ma che marco ma che marco Aspettate un attimo Ok Ok Un attimo, aspetta, voglio provarlo Siamo tutti i ragazzi Oh Oh Siamo tutti i ragazzi Siamo tutti i ragazzi Aspettate, secondo il giorno Adesso Rendiamo un po' tridimensionale La scritta La scritta Mi sa che più consiglio E' un po' barbasta Se ne è il suo nome scrive E' un effetto di quelli potenti 3D No Stupido l'allarme Mi ma mi ma Cosa mettiamo? Una torta? Un grano Aspettate, dov'era? Guarda per dormire No, questo che no Sì, che bello Mettiamo 3D Vola intorno alla camera La telecamera Adesso mi illumino com'è Oh, mi dispiace Oltre la porta Cuginone Sto cazzo Cugino Iano Ti devo dire una roba Ti presento Ah, è vero non è qui E' la mia onna E' di qui la cacchia va Chiudiamo un po' Sì, ho esagerato con le porte L'ho detto Aspettate, è qui da qualche parte Yalopo, guarda qui L'effetto che da il tetto Ma Vi bisogna del microfono Magari non ci sento Ce l'abbiamo un microfono No, Yalopo Guarda qua Cosa succede? Ma niente Ma chissà che succede? Sei te che succedi Ma sei te che succedi Te succedi la testa Ecco Ce l'abbiamo fatta Effetto 3D inserito Completamente Aiuto Dove sono le cose Dei nonni Eh, le ho fatte esplodere tutte Dalla prima all'ultima Ah, sono di qui Ah, Sam Ma come Perché non le hai fatte esplodere tutto? Non avevo voglia Non ce l'avevo sbatta Ma per casa allora Dalla prima Non esplodere Allora, erano cose... Ma io ho sempre diso... Ah, ragazzi, vedi quella cosa? L'amore è scatenato oggi, è proprio il pazzo scatenato. Sì, però con il coccino 3D, After Effects, devo sentire che ho esagerato. L'ho metto pubblicamente. Cioè, guardate che sigla 3D che ho costruito con l'After Effects. Fate voi voi. Avrei spugnato il computer. Io l'ho fatto. Meno male che non è quale mio cugino Nicoloso mi ammazzerebbe. Uno, due, tre, quattro, cinque. Uno, due, tre, quattro, cinque. E in più di cui una roba davanti al mio cugino Iarpo. Fortuna che non è il suo tablet. Che eseguerebbe... Che cosa? Ti sparerò dalla testa. Ahahahahahah. E in modo di che ti vi le dè ecche. E vai via dalle tààdole. Fulsi... Ah, un angolo. Sia tranquillo, signor Jacopo Barra Ufraider. Hola! Ufraider! Sì, il prezietico! Sì! Ufraider llìllù! Ufraider lìllù! Ufraider lìllù! Ufraider il vifachtenammla! Ufraider ehllino! noi ce l'abbiamo fatta figamente a caricare la sede ma non vuole 4,5,5,5,5 siamo con noi 3, sei il mio migliore amico non ero io il tuo migliore figo no, mamma ma se che il tuo figlio non è mio amico figlia posso dire che Roma vi esprimo no, volevo volevo fare una bella rosa bene adesso credo che sia abbastanza bello sa com'è after the fact dobbiamo lavorare siamo una copia inseparabile via si si si, ti faccio riposare possibile a compiuto tranquillo computer dopo ti faccio riposare va bene? No, non mi fa affatto bene. Chi ha parlato con questo qui? Ehi! Chi ha parlato con questo che non sei chiuso l'unello? Hai capito, genese? Io intanto sono figlio unico. Ero di Gia, poi ammiti. Capito, genese? Alla, abbiamo fatto la casa uguale, uguale dei nonnecchi. Tanto che non la udisci, scusi, aia. Perché non ciò va io! No! 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 Oh! Oh! No! 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 Qualcuno ci dì di off the refer? Ok! 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 No, ok! Ok! Oh, questi domani sono fatti! Gli manetti! Sì, tuttavia cosa so. Ecco! Tutto, facciamolo? Tutto, faccio! 4 povertà ahahahahah ehi qui non si parla ahahah ahahah ehi ti sbalo ne? ti sbalo di tu ti sbalo ti sbalo di tu i giochi farà ridere un dobbio cucito i sbalo uuuu ehi ciao i sbalo si ciao ahahahahah ahahahahah ahahah muoi muoi ehi muoi muoi muoio 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 ah è già molto ok muoio 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 ehi calco hai detto lecura al rucle e con lecce e con lecce ho detto caletto a me caletto a te caletto non a me caletto a caletto Ma tu sei pazzo! Come 10 minuti! Ma tu sei davvero un pazzo! 4 minuti per salvare un video di 25 secondi del top! Questo è pazzo! 4 minuti! E' pazzo! E' pazzo! Ma è pazzo! 3 minuti! Andate a venire tutti! Andate a venire tutti! Ok, addio! Vuoi! 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 Palo in diamante! Ops! Ciao, ciao! 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 Grazie a tutti